Tanto è importante per il tempo perché è un rinnovo decennale, quindi è un protocollo di collaborazione tra Regione e Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea che si svilupperà a lungo un decennio. Avviene sulla base dei principi che la Regione Toscana ha nel proprio statuto, di valorizzazione della memoria dell'antifascismo, di farla parlare e di fare formazione su questi temi e sono tutte impostazioni che l'Istituto ha nella sua natura. Forse avete visto, abbiamo un patrimonio molto ricco di documenti che vogliamo ancora arricchire, vogliamo metterlo a disposizione dei cittadini digitalizzandolo, la cooperazione ha dato un contributo per andare in questa direzione. Poi c'è l'attività di ricerca storico-scientifica, sia sul momento della resistenza, dell'antifascismo, sia sulla democrazia e la libertà nel nostro tempo. E poi c'è la formazione, la formazione nelle scuole, la formazione agli adulti, la formazione ai delegati sindacali e a tutti gli altri. Tutto questo si rafforza con la collaborazione con la Regione e con le modifiche che sono state introdotte di recente alla legge 38.